Vedi, è intelligente lui, basta che gli cambi le batterie e poi in macchina anche il telecomando, guarda, su, 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 hai visto? Vuoi provare? Amore! Guarda sempre lo... Di Pino! Di Pino, no Marco, dito! Sì, no, così, così! Aspetta che lo giro, bravissimo! Non lo manca, 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 guarda loro! No, non ti becca! Manza, attacca, attacca, attacca! Amore non è un falco! Non è un falco, sì! E andiamo avanti io e te, lo mettiamo a riposo, vai! Allora, signorino, come ti ho detto prima...